Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori ricoverato d'urgenza in ospedale, il noto politico italiano Ore di Paura, tra i tanti fani prima di saperne di più, prima di scoprire cosa è successo e a chi. Vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 500 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo in queste ore. L'Italia è con il fiato sospeso in relazione alla recente notizia che fa riferimento al ricovero in ospedale del famoso politico e stiamo parlando anche di un grosso nome del mondo dello spettacolo, stiamo parlando del fondatore del Movimento 5 Stelle. Ecco perché, nella miniatura del video, appare Giuseppe Conte perché stiamo parlando di colui che ha fondato il noto partito, ovvero Beppe Grillo, grande amico, peraltro, dell'ex premier pugliese Beppe Grillo, è stato ricoverato in ospedale, ma nella giornata di domenica, per la precisione, all'ospedale di Cecina, la notizia del ricovero di Beppe Grillo è stata resa pubblica soltanto a Pochissimi minuti fa e purtroppo al momento non sono stati comunicati altri dettagli circa il malessere che lo ha costretto a recarsi al pronto soccorso. Ricordiamo che Beppe Grillo, che come sapete è stato anche un grande comico, ha 75 anni e di recente. Durante un'ospitata che, tempo che fa, ha anche parlato dei suoi problemi di salute tipici dell'età che avanza Terro aggiornati sulle condizioni di Beppe Grillo, amici di YouTube, grazie per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti.